Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Concetti matematici apparentemente inutili che se però vengono approfonditi portano a conseguenze molto meno inutili. Il concetto matematico apparentemente inutile da cui partiamo oggi ha un nome molto peculiare. Si chiama infatti il teorema della palla pelosa. Si tratta fondamentalmente di un teorema che appartiene all'ambito matematico della topologia algebrica. Il teorema si può enunciare in modo molto semplice da un punto di vista linguistico, cioè dicendo che non esiste un campo vettoriale continuo, non nullo, che sia tangente in ogni punto a una superficie sferica. Che cosa significa? Significa che se voi vi immaginate di avere una sfera e di volere in ogni punto della sfera inserire una piccola freccia che sia tangente alla sfera, allora fondamentalmente non ci riuscite. Ci dovrà essere cioè almeno un punto in cui questa cosa non si possa fare. Ci si può immaginare appunto una palla pelosa, cioè una sfera ricoperta di peli e a questo punto se noi pensiamo di pettinare tutti i peli in modo che siano tangenti alla sfera, quindi che siano contro la sfera, esattamente come pettineremo i nostri capelli, allora ci sarà almeno un punto in cui effettivamente i capelli non saranno tangenti alla sfera. Naturalmente il teorema si dimostra in modo molto rigoroso, però appunto la dimostrazione esula dagli scopi di questo video. Immaginatevi quindi semplicemente una sfera che sia pelosa e immaginatevi di volere pettinare questi peli. Ecco, non ci riuscirete. Ci sono tanti esempi presi dalla quotidianità in cui possiamo vedere questa cosa. Naturalmente possiamo enunciare il teorema anche in modo più formale dicendo che, data una sfera s e una funzione continua f da s a r3, cioè allo spazio tridimensionale, che associa ad ogni punto p della sfera un vettore tridimensionale tangente alla sfera stessa in p, cioè nello stesso punto, esiste almeno un punto, un secondo punto della sfera q, tale che il campo vettoriale in quel punto è uguale a zero. Sicuramente rispetto ad altri teoremi matematici il teorema della palla pelosa colpisce innanzitutto per il suo nome, ma poi anche semplicemente perché è un teorema abbastanza semplice da comprendere da un punto di vista visuale. Poi naturalmente la dimostrazione è sicuramente un qualcosa che richiede strumenti tecnici, dal punto di vista matematico, più accurati. Però oltre a questo, cioè oltre a colpire, uno dice vabbè, ok, interessante, e quindi? Ecco, come al solito, come nelle puntate precedenti, vediamo che questo teorema ha anche delle conseguenze che sono comunque di un certo interesse. La prima conseguenza la troviamo nell'ambito della meteorologia. In effetti noi possiamo immaginarci in prima approssimazione la superficie terrestre come una superficie sferica e su questa superficie sferica abbiamo naturalmente il vento. Lo abbiamo semplicemente perché la superficie terrestre è ricoperta da un'atmosfera ed essendo ricoperta da un'atmosfera naturalmente è molto improbabile che in ogni punto l'aria che compone l'atmosfera sia ferma. Quindi adesso immaginiamoci questo vento sulla superficie terrestre e possiamo modellizzare tale vento proprio come un campo vettoriale. Effettivamente, se noi consideriamo solo il vento che si muove orizzontalmente, quindi appunto in modo tangente rispetto alla superficie terrestre, allora tutto questo vento si può indicare proprio come tante frecce, cioè come quello che in gergo si chiama campo vettoriale tangente alla superficie della Terra che è sferica. Siamo quindi esattamente nelle condizioni, cioè nelle ipotesi del teorema della palla pelosa, ma allora come conseguenza abbiamo che ci sarà almeno un punto sulla superficie terrestre in cui effettivamente il campo vettoriale vento sia uguale a zero. Ma quello di cui stiamo parlando non è altro che il concetto di ciclone. Più in particolare stiamo parlando dell'occhio di un ciclone oppure di un anticiclone. Effettivamente un ciclone è una zona in cui c'è un vero e proprio vortice. Possiamo quindi tranquillamente dire che al centro di un ciclone oppure di un anticiclone, al centro esatto, diciamo, il vento ha velocità pari a zero. Ma allora il teorema della palla pelosa in realtà ha delle conseguenze molto importanti che riguardano praticamente tutti i pianeti dotati di un'atmosfera. Si può quindi dedurre dal teorema della palla pelosa che ogni pianeta che sia dotato di un'atmosfera ha almeno un ciclone o un anticiclone. Naturalmente nelle ipotesi che su quel pianeta ci sia almeno un po' di vento, ipotesi però molto probabile. Effettivamente è molto molto difficile che all'interno di un'intera atmosfera di un pianeta il vento sia nullo, cioè abbia velocità nulla in ogni punto. Abbiamo quindi che da un teorema apparentemente inutile, come può essere un teorema con un nome del genere, teorema della palla pelosa, deriva che su ogni pianeta su cui sia presente un'atmosfera abbiamo almeno un ciclone o un anticiclone. Un'altra conseguenza del teorema della palla pelosa riguarda un ambito che è abbastanza lontano dalla fisica, ma non troppo. Si tratta infatti della computer grafica. Si scopre, grazie al teorema della palla pelosa, che dato un qualsiasi vettore non è possibile trovare un modo di definire sempre un vettore perpendicolare al vettore dato. Quindi diciamo che chiunque abbia bisogno di scrivere algoritmi che considerino funzioni continue, che prendano sempre qualsiasi vettore e siano in grado di trovare un vettore perpendicolare a tale vettore dato, dovrà non può mettersi il cuore in pace e rendersi conto che, per il teorema della palla pelosa, questa cosa non si può fare. Un vettore di partenza può essere sempre considerato come il raggio di una sfera, ma questo significa che trovare successivamente un secondo vettore perpendicolare al primo significa trovare un vettore che sia sempre tangente a questa sfera, di cui il primo vettore rappresentava il raggio. Ma allora è naturale che prendere un qualsiasi vettore, cioè un qualsiasi raggio di questa sfera, non permette poi di trovare sempre un secondo vettore tangente alla stessa sfera, perché altrimenti noi staremmo violando il teorema della palla pelosa. Quindi noi non potremo mai scrivere all'interno di un algoritmo un metodo, quindi una funzione che sia continua e che sia in grado di trovare sempre un vettore perpendicolare a un vettore dato. E questo è un grosso problema proprio all'interno dell'ambito della computer grafica, perché è lì che noi effettivamente, creando modelli tridimensionali o comunque volendo fare dei calcoli di qualsiasi tipo, che siano calcoli geometrici, ma anche semplicemente che siano calcoli che richiedono un punto di vista geometrico. Ecco, in quest'ambito noi abbiamo questo grosso problema. Quindi abbiamo due importanti conseguenze, una che riguarda i cicloni e gli anticicloni, presenti quindi sicuramente su qualsiasi pianeta dotato di atmosfera, e una seconda conseguenza è che noi non riusciremo mai a scrivere un algoritmo che ci permetta di trovare sempre un vettore perpendicolare a un vettore dato. Bene, vi ringrazio per aver guardato. Naturalmente questa era una puntata un pochino più corta rispetto al solito, mi rendo conto che forse vi aspettavate un pochino di più, tuttavia io ho trovato l'argomento molto interessante. Effettivamente la prima volta che ho sentito parlare del teorema della palla pelosa mi trovavo all'inizio del mio percorso universitario e si parlava di questo teorema in modo abbastanza scherzoso, e scoprire poi che effettivamente ci sono anche delle conseguenze che riguardano la realtà mi ha comunque abbastanza stupito e ho voluto rendervi in un certo senso partecipi di questo mio stupore. Detto questo, noi ci vediamo a un prossimo video, vi ricordo come al solito di seguirmi anche su Instagram, soprattutto in questo periodo in cui sto comunque facendo parecchie live e sto pubblicando parecchi contenuti. Noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao! Ciao!